Non c'è pace per il Manfredonia e per certi versi quanto accaduto ieri pomeriggio allo stadio Miramare è la fotografia più nitida di una stagione storta, come le linee di fondo campo, tracciata male se non peggio di quelle che avrebbero dovuto delimitare l'aria di rigore. Neanche Osvaldo Soriano sarebbe riuscito a scovare nei suoi romanzi sul calcio una situazione così paradossale. Manfredonia Gravina era gara della dodicesima giornata del campionato di Serie D, quindi non un torneo parrocchiale. parrocchiale. Sarebbe tutto pronto agli ordini del direttore di gara se non fosse che quelle linee sbilenche e quell'aria di rigore poco ortodossa rispetto al regolamento non sono sfuggite alla terna arbitrale. Incredulità tra i tifosi e attesa di due ore e mezza per decidere che la partita non si sarebbe disputata né tantomeno si potevano tracciare nuovamente le linee del campo. Il Manfredonia sarà sconfitto a tavolino per 3-0 come da regolamento, mentre la brutta figura finisce inevitabilmente per essere amplificata dai social. I tifosi del Manfredonia parlano della figura più oscena degli 85 anni di storia e di Manfredonia Barzelletta d'Italia. Al netto dei sorrisi resta l'episodio che fotografa una stagione nata male e che rischia di finire peggio con il presidente Antonio Zdanga di missionario, il direttore sportivo Vitaglione sollevato dall'incarico la settimana scorsa ed una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica. Eppure su questo campo, con linee regolari, i padroni di casa nei tempi d'oro della Serie C hanno sfidato il Napoli, oggi capolista di Serie A. Sembra un secolo fa, ma sono passati meno di 10 anni. La storia, si sa, corre su altri binali o linee se preferite.